Guarda, mi ha colpito questa sua necessità di frequentare bella gente, finalmente mi viene da dire. Shalom, Moni, molto piacere di vederti qui stasera. Yassalamu alaikum. Grazie. Ah beh, un'altra risposta. Eh beh, voglio dire... Lo scambio della cultura e delle religioni. Si porta alla cultura ebraica in un modo meraviglioso. Mi fa piacere sentire Corona assomigliare in questa fase molto a suo papà, che io ho avuto modo di conoscere, di lavorare con lui. Non so se sapete che studio aperto d'Italia 1 l'ha inventato lui, e poi alla fine l'ho condotto io, sul suo giornale mi ha dato sempre molto spazio. C'era stima e simpatia. Ha detto che lo vuole vendicare, ma di che cosa? Non ho capito di che. A noi manca molto, ci ha molto fatto soffrire la sua scomparsa dovuta a una malattia. Di che cosa lo vuole vendicare? Alessandro, mio padre ha una storia, lo scrivo nel libro. Ti invito perché mi piacerebbe che tu lo leggessi, perché è un bel libro. Te la faccio in brevissima, perché se no è lunga. Mio padre inventa mode king, nel 92 fa king, nel 92 fa una copertina con i più grandi politici italiani, da cui Andreotti e Spadolini, definì la cupola italiana, venne cacciato da aeree, andò da Berlusconi, creò studio aperto. Berlusconi gli chiese di sostenere attraverso il suo telegiornale la sua ascesa ai Forza Italia. Mio padre, che era un anarchico, gli disse assolutamente no. Se ne andò sbattendo la porta, inventò insieme a Montanelli la voce, gli fecero una guerra clamorosa, Berlusconi ai tempi era veramente Dio, e mio padre dal 95 non ha mai più lavorato, ed era il più grande giornalista italiano. Sono d'accordo, uno dei più grandi. Quindi dentro ce l'hai questa cosa di tuo padre, questa voglia di... Ma io ce l'ho, io sono entrato dalla porta principale, dove ero un artista, tra scioghere e varlette, e alla fine sono entrato dentro il sistema, ho sbattuto la porta a queste feste, a questi divertimenti, e uscivo la sera con i paparazzi, che non erano dei paparazzi, erano dei fotoreporter di guerra, che mi servivano per entrare e scardinare il potere, il potere della giustizia, il potere della politica, il potere... Perché purtroppo tutto, nelle società mondiali, lo guardiamo in Italia, lo guardiamo in America, passa dall'estetica, dalle donne, dal potere... Eh, ti fermo, ti fermo, ti fermo, è sempre tutto legato.